Buono, bene e bello. Qual è la differenza tra queste tre parole in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul canale pubblico ogni settimana video di grammatica, vocabolario e cultura italiana, quindi se ti interessano tutte queste cose non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Oggi parliamo della differenza tra gli aggettivi buono e bello e l'avverbio bene. Questo è un argomento davvero molto importante perché usiamo queste parole tutti i giorni in italiano, quindi devi conoscere la differenza e sapere come usarle. Prima di iniziare con il video di oggi però voglio anche dirti che ho preparato per te un fantastico pdf con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare questo documento per seguire meglio la lezione e anche prendere degli appunti, puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione e scaricare il pdf completamente gratis. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi e partiamo subito a capire qual è la differenza tra buono e bene. Prima di tutto, buono è un aggettivo, invece bene è un avverbio, questo è un punto molto importante. Ricorda che usiamo gli aggettivi per descrivere dei nomi, dei sostantivi, invece usiamo gli avverbi per aggiungere un'informazione sul modo in cui facciamo qualcosa, quindi usiamo gli avverbi per descrivere dei verbi, avverbi, verbi, è chiaro? Quindi già qui puoi capire una cosa molto importante, usiamo buono con i nomi, con i sostantivi e bene con i verbi, però attenzione c'è una grande eccezione a questa regola, il verbo essere. Infatti con il verbo essere non possiamo mai usare bene, ma useremo buono. Questo perché essere in italiano si usa con gli aggettivi, perché usiamo essere per descrivere come qualcosa o qualcuno e quindi con essere, il verbo essere, usiamo gli aggettivi. Quindi con il verbo essere usiamo buono. Allora vediamo subito qualche esempio con buono, per esempio la pasta al pesto è buona, la pasta al pesto è buona. Marco e Giovanni sono buoni, Marco e Giovanni sono buoni. Ho mangiato una buona pizza a Napoli, ho mangiato una buona pizza a Napoli. Come puoi vedere stiamo usando buono per descrivere cose o persone, comunque sostantivi, nomi e generalmente usiamo buono per descrivere o il gusto piacevole di un cibo o di una bevanda. Per esempio abbiamo detto che la pasta al pesto è buona o che ho mangiato una buona pizza a Napoli o anche per descrivere il carattere di una persona. Infatti quando diciamo che una persona è buona significa che è gentile, ha un buon cuore. Ora vediamo qualche esempio con bene, il più comune. Come stai? Sto bene, grazie. O anche io parlo bene l'italiano, io parlo bene l'italiano. O ancora ho mangiato bene al ristorante, ho mangiato bene al ristorante. Qui è molto chiaro, usiamo bene perché stiamo descrivendo il modo in cui abbiamo fatto qualcosa, quindi usiamo bene con i verbi. Per esempio sto bene, il verbo stare chiaramente richiede un avverbio, bene in questo caso. Io parlo bene, descrivo il modo in cui parlo. Ho mangiato bene, descrivo il modo in cui ho mangiato. Ma se qualcuno ti chiede come è stata la vacanza, come puoi rispondere? Beh sicuramente non puoi dire è stata bene, è stata bene. Questo è sbagliato, molto sbagliato. Perché? Beh perché se io ti chiedo come è stata la tua vacanza, come è stata, è stata e il passato prossimo del verbo essere. Perché sì, il passato prossimo del verbo essere è uguale al passato prossimo del verbo stare. Ma se ti dico come è stata la tua vacanza, ti sto chiedendo di descrivere una cosa, la vacanza. Quindi in realtà quello è il verbo essere. Non possiamo usare bene, perché con il verbo essere non usiamo bene, ma un aggettivo. In realtà in questo caso non funziona neanche buono, perché non possiamo dire che una vacanza è buona. Non è un cibo, non è una bevanda, non è una persona. Però possiamo dire che la vacanza è stata bella, piacevole, divertente, ma non bene. Fantastico! Allora adesso parliamo dell'aggettivo bello. Anche questo aggettivo a volte crea un po' di difficoltà, più che altro perché dobbiamo capire come usare bello. Prima di tutto bello è un aggettivo come buono, quindi possiamo usarlo negli stessi casi. Possiamo usarlo per descrivere un nome, un sostantivo o anche con il verbo essere. Generalmente usiamo bello per descrivere l'aspetto estetico di qualcosa o di qualcuno, però ha anche altri significati interessanti, quindi vediamo alcuni esempi. Il primo esempio è Mario è un bel ragazzo, Mario è un bel ragazzo. Quando diciamo bel ragazzo stiamo descrivendo l'aspetto estetico di Mario, quindi l'aspetto fisico, l'aspetto estetico di Mario ci piace. Mario è bello. Come vedi io non dico Mario è un bello ragazzo, ma bel ragazzo. Questo perché la forma di bello cambia in base alla parola che segue l'aggettivo. Se vuoi saperne di più su questo argomento, quindi vuoi un video sulle diverse forme di bello, scrivilo qui sotto nei commenti e faremo un video su questo argomento in futuro. Andiamo avanti con un altro esempio. Questa lezione d'italiano è molto bella. Questa lezione d'italiano è molto bella. In questo caso non stiamo parlando della lezione d'italiano dal punto di vista estetico, ovviamente, però stiamo dicendo che questa lezione è ben organizzata, è interessante, è utile. Quindi possiamo usare bello anche con le cose per dire che funzionano bene, che sono interessanti, che sono ben organizzate. Per esempio una lezione può essere bella, un corso può essere bello. O ancora vediamo l'ultimo esempio. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema. In questo caso chiaramente usiamo bello in modo un po' ironico. Infatti se diciamo un bel problema, intendiamo dire un problema grande o comunque abbastanza grave. Quindi possiamo usare bello anche per enfatizzare qualcosa come il problema in positivo o in negativo. Fantastico, spero che adesso la differenza tra buono, bello e bene sia più chiara. Ma come sempre se hai qualche domanda scrivila qui sotto nei commenti. E mi raccomando non dimenticare di scaricare il pdf con gli appunti di questa lezione. Ti sarà molto utile. Ma ovviamente se la lezione ti è piaciuta, non dimenticare anche di lasciare un bel mi piace. Questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale. Quindi se vuoi supportarci in questo progetto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Davvero questo fa la differenza. E noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao! Ciao!